Grazie a tutti. Sulla campagna elettorale, questa volta nella prima ora vi descrivo tutti i mezzi di comunicazione come funzionano, dall'agenzia stampa al giornale, alla radio e alla televisione, e a come sono cambiati negli anni, anche come funzionano le giornate di un giornalista di agenzia stampa e tutto il meccanismo, come varia dall'agenzia stampa al giornale, alla radio e alla televisione. Invece la seconda parte facciamo, e vi dico un po' anche in maniera, rispetto alle mie esperienze professionali, come si gestisce invece un personaggio, quella cosa che dicevamo l'altra volta che era abbastanza curiosa, quindi la figura invece del portavoce, non del capo ufficio stampa, è una cosa più o meno diversa, e quindi con vari esempi su vari personaggi famosi che variano e come si cura tutta la persona. Allora, partiamo dalla prima ora su tutti i mezzi di comunicazione, cioè voi avete idea per esempio di come funziona un'agenzia di stampa, oppure conoscete che cos'è un'agenzia di stampa, voi avete sentito nominare sicuramente l'Ansa, che è la cosa più importante, l'agenzia di stampa più importante, non esiste solo l'Ansa, ce ne sono tantissime altre, c'è la DN... che state a fare? Voi entrate, uscite? Non mi fate arrabbiare. Oltre all'Ansa c'è la DN Cronos, l'Asca, l'Agi, che è l'agenzia italiana, poi Italpress, Novecolonne, la Dire, insomma ne sono varie. Cosa succede in un'agenzia stampa? E dove parte la notizia? Cioè, ed è anche l'esperienza, devo dire, più significativa che per esempio io ho fatto come giornalista, nel senso che io sono stata sia in un'agenzia stampa, che in un giornale, che in una radio, che in un ufficio stampa, e quindi è veramente diverso tutta come funziona l'informazione, anche il modo di fare giornalismo. L'agenzia stampa è quella che, ora vi faccio vedere il collegamento che c'è, sono praticamente i flash di cui si parla, questo è il sistema, Asca, DN Cronos, ANSA, li vedete? E man mano che succedono vari fatti, per esempio, ecco, discorrezione eseguita, andiamo bene, un attimo che vi volevo far vedere esattamente. Man mano che, per esempio, Ingroia è in questo momento all'Aquila e parla, c'è il giornalista che manda la notizia in rete e comunica a tutto il mondo che Ingroia dice che è la città simbolo di disastri per il paese, oggi perché è l'anniversario del terremoto, vabbè ci disconnettiamo sempre, però era per farvi capire più o meno come è il sistema. L'agenzia di stampa è fondamentale perché è il giornalista dell'agenzia che comunica anche ai giornali quotidiani che cosa succede, nel senso che se in questo momento il papa si dimette, questo è già successo, speriamo non ne risucceda più, è di solito, così è successo, è stato l'ANSA a dare la notizia, la prima giornalista, quella di agenzia, che era lì, aveva i contatti, ha dato il famoso flash, di solito si mettono 3x, quando c'è l'ANSA ha un flash con 3x, significa che è veramente una notizia importantissima e lì, siccome questo collegamento che voi vedete adesso sullo schermo, è quello che hanno tutti i giornalisti sui computer o per esempio sul Blackberry per seguire tutte le notizie momento per momento, oppure che i giornali acquistano, e questo è perché è diverso il giornalismo di agenzia rispetto a quello dei giornali, i giornali si nutrono di queste notizie, quindi io che sono fan dell'agenzia, perché dico che il vero giornalista è solo quello di agenzia, perché i giornali il pomeriggio arrivano e hanno lì sul piatto pronto quello che i giornalisti di agenzia si sono smazzati andando all'Aquila oggi per esempio, oppure oggi c'è stato il Consiglio dei Ministri di sabato, lì c'erano i colleghi di agenzia che dicevano che è passato il decreto sui debiti IPA, e naturalmente è loro che mentre parlano scrivono direttamente e lanciano a l'ANSA e a tutti quanti le notizie, quindi Corriere.it, Repubblica.it, che cosa fanno? Non fanno altro che riprendere la notizia che l'ANSA e le varie agenzie rilanciano e costruire poi la notizia. E qual è allora la differenza? E questo è importante da capire. Anche gli orari dei giornalisti sono diversi, perché il giornalista di agenzia è anche i turni che si fanno, perché concretamente così capite anche il lavoro come funziona, e il lavoro è aperto anche, insomma, non so, l'ANSA fino alle tre se non sbaglio, poi riprende la mattina, però il buco in cui non danno informazioni veramente piccolo rispetto a un giornale, che invece ha un ritmo di lavoro completamente diverso. Cosa però ha cambiato, diciamo, in qualche modo il lavoro che io reputo fondamentale delle agenzie di stampa? È Twitter, perché Twitter in questo momento, voi so che la scorsa lezione più o meno avete parlato di Twitter, di come funziona, ha ribaltato il ruolo delle agenzie, cioè non solo l'ha ribaltato, l'ha quasi messo in secondo piano, perché mentre prima anche i politici chiamavano l'ANSA per dire devo fare una dichiarazione contro Berlusconi o contro questo, contro quell'altro, adesso che fanno? Sul proprio account Twitter dicono è passato il decreto debiti PA, è una grande fortuna, una grande stronzata, lo dicono su Twitter, quindi il valore anche della notizia di un'agenzia come l'ANSA è venuto in qualche modo a mancare, le notizie principali, per esempio come la morte di Bill Laden, è stata data su Twitter, prima di tutto che la BBC si rendesse conto che c'erano degli elicotteri che stavano sul, e quindi hanno letto dall'account di questo ragazzo che era un, se non sbaglio, insomma lavorava con dei software, ha twittato, vedo degli elicotteri su quella casa, mi sembra una cosa strana, questo non è mai successo, di lì si è innescato il meccanismo, ma non è che è arrivata una grande agenzia internazionale per dare la notizia. Per cui anche i giornali, anche le agenzie di stampa che sono così importanti, adesso si sono dovute adeguare a questo meccanismo, per cui Twitter, in questo momento, per esempio io seguivo anche i giornalisti stessi, dalla conferenza stampa, o che sono all'Aquila, o che sono ovunque, tutta la giornata che è successa oggi, danno prima le informazioni ormai su Twitter, che in qualsiasi altra parte. Per cui il ruolo di questo mezzo di comunicazione è diventato fondamentale. L'esplosione totale l'abbiamo avuta con le elezioni quest'anno di Obama, cioè che sono state proprio le Twitter election per eccellenza, e le stesse da cui, per esempio, vi raccontavo l'altra volta, che nella squadra di Monti, nella campagna elettorale, c'erano due del team di Obama, e loro hanno voluto profondamente, e ci hanno spiegato i motivi, cioè proprio rompendoci la testa, di quanto fosse stato importante l'interazione continua che Obama ha avuto direttamente con le persone, con gli utenti su Twitter, quanto questo l'ha portato a crescere in maniera esponenziale, tanto che poi il famoso tweet di Obama dopo la sua elezione, con la famosa foto che lui ha postato e che ha avuto 653.295.000 retweet, insomma ha fatto il giro del mondo con una potenza incredibile. Quindi questo per farci capire poi che cosa e quanto arriva ormai di più Twitter che rispetto a qualsiasi altro mezzo di comunicazione, tanto che ormai tutti i politici, tutti i mezzi di comunicazione come Repubblica Corriere sono su Twitter, ormai lanciano le notizie lì, per esempio Corriere si è dovuto adeguare, questo è il mio account, però io stessa, cioè che devo essere sempre informata, faccio prima da Twitter a sapere le cose che ad avere il sistema di agenzie, a parte che sei ciechi in maniera incredibile, cioè qua proprio è stata la tortura della vita mia, sono le agenzie, perché praticamente questo lo vedremo dopo, quando devi curare un personaggio politico come è successo a me, devi essere incollata alle agenzie, perché è nelle agenzie che si crea il dibattito politico che poi viene rimbalzato nelle tv, nei giornali e nelle radio, però è lì che si fa, cioè uno che risponde all'altro su una questione, per esempio, facciamo l'esempio eclatante del Papa che si dimette, dopodiché a cascata tutti chiamano l'Ansa, tutti chiamano e vogliono dire è una notizia allucinante, chissà cosa, devono commentare, si crea il commento, si crea il dibattito e fondamentalmente si creano le notizie in questo modo. Quindi, questo per farvi capire che fondamentalmente il ruolo dell'informazione cambia con il tempo, cambia con gli anni e non è assolutamente scontato che l'Ansa, che è per tutti nell'immaginario collettivo quella che dà le informazioni certe e quella che arriva prima su tutte le informazioni, adesso è completamente scavalcata da altri mezzi di comunicazione e tutti si sono i grandi, dal politico al cantante, perché io per esempio su Twitter seguo tantissimo Giovanotti, per esempio, ne parlavo l'altra volta, perché per me è quello che in maniera incredibile riesce a sfruttare, anche perché ha passato un grande periodo in America, quindi ha capito l'importanza dei social network, così come li hanno utilizzati con Obama, così li utilizzano anche per i loro cantanti, per esempio, e lui fa un uso straordinario della rete e un uso straordinario di Twitter. Riesce a creare una serie di informazioni e di... per esempio, ieri usciva un nuovo singolo. Per tutto il mese lui ha mandato, ha postato dall'America, non solo le foto di lui che provava, di lui che dice al giugno parte il tour negli stadi e tutto quanto, è riuscito anche a... con Bine, che non so se conoscete, un altro social molto importante, utilizzato per la prima volta... cioè, sempre questo l'abbiamo rubato anche lì agli americani, l'abbiamo utilizzato anche con Monti, per esempio, durante la campagna elettorale, che in sei secondi riesce a raccontare... questo non so cosa sia... riesce a raccontare quello che succede con sei scatti. io avevo chiesto, non so se... sul tuo... sul mio... e l'abbiamo... vi faccio vedere come funziona... ed è... ed è fighissimo, perché in sei secondi... e questo può essere un altro contenuto multimediale... te li monta direttamente... e ti riesce, praticamente, ai sei secondi per raccontare quello che sta succedendo. questo è un... per esempio, è un grandissimo moltiplicatore di informazioni, perché Twitter funziona fondamentalmente così, perché la notizia rimbalza in una maniera tale che è diversissima dalle agenzie, quindi tu se riesci a... nel retweet di un evento come questo, che è una cosa piccola, ma figuriamoci un evento più grande, come siamo riusciti a fare la prima uscita di Monti, in giro per Milano, con... raccontata in sei secondi, allora, lui che arriva con l'agente, cioè, e fai praticamente un click, che ti monta direttamente, quindi sull'iPhone, con l'iPhone non lo puoi fare in un niente, può diventare un contenuto che... che puoi utilizzare... beh, qui non so il... è andato un po' più tardi... puoi utilizzare anche come... oltre che come descrivere un evento, in questo caso, lo possiamo utilizzare come contenuto multimediale che correda una notizia di cartellina stampa, come abbiamo parlato l'altra volta, perché tu in sei secondi puoi descrivere una mostra, se devi fare l'ufficio stampa di una mostra, riesci a... non so, a fare sei foto, però montate, hanno tutto un altro... un altro valore, e... è stessa cosa che ha fatto Obama, ed è in questo modo, oltre che... che figo, ed è facilissimo, è una cosa che tu riesci a descrivere un momento, in esattamente sei secondi, e Giovannotti è riuscito benissimo anche in questo, perché sta facendo una sua campagna pubblicitaria in un niente, cioè, utilizzando questi strumenti che vengono rituitati e rimbalzati ad estremanche, arriva prima Twitter che tutte le altre. Questo perché, oltre a essere io fan estrema di Twitter, è proprio... ho visto il cambiamento totale dell'informazione grazie a questo strumento, ed è una cosa che... che ha fatto vincere, rivincere le elezioni a un grande leader come Obama, non è successo in Italia, perché noi arriviamo molto lentamente sulle cose, anzi, per esempio, un leader come Monti è stato criticato per l'uso dei social network, perché diceva, non li si addice, non è una cosa... è invece l'esplosione che ha comunicativamente un tweet piuttosto che un'agenzia ANSA è totalmente diverso, cioè tu ormai arrivi prima con quello che con tutto il resto. Vi dicevo, quindi la differenza, cioè, la notizia parte in un'agenzia stampa, prima partiva lì, cioè, prima era all'ANSA che si telefonava, ancora per delle cose importanti succede, però adesso, appunto, i maggiori leader se parlano su Twitter e dicono la loro è l'ANSA che dice lo dice su Twitter Pier Ferdinando Casini, lo dice su Twitter il Presidente del Consiglio, quindi è cambiato completamente, si è ribaltato questo modo di fare informazione. Vi dicevo, nell'agenzia ci sono dei turni per descrivervi di come funziona, però la cosa bellissima è che sei la prima, per questo per me è stata un'esperienza incredibile, io sono stata a LANSA a Parigi ed era bellissimo perché tu eri sul posto e non c'era nessun altro, quindi eri tu che descrivevi per la prima volta una cosa, quindi succede che per la prima volta la Torre Eiffel viene illuminata di blu e sei tu che lo descrivi all'Italia, nel senso che ce lo racconta da Parigi, Lucia ha ritrovato che è lì che lo sta vedendo, non c'era il corrispondente del Corriere perché ormai i prezzi naturalmente anche i costi di tutto ciò sono di un certo tipo per cui il giornale preferisce non più avere tanti inviati ma puntare sulle agenzie per avere le informazioni quindi che cosa succede adesso passiamo ai giornali i giornali invece funzionano in altro modo preferiscono visto il costo che ha un giornalista farsi un abbonamento a tutte le agenzie sapere che cosa succede da loro e mandare al massimo il quirlanista figure storiche hanno il quirlanista il politico che segue particolarmente il presidente del consiglio piuttosto che un ministro più importante quindi hanno delle figure chiave che vanno in giro però fondamentalmente le notizie se le ricicciano e se le rimpastano da quello che leggono dalle agenzie quindi fondamentalmente il lavoro dei giornali è cambiato radicalmente anche perché il calo è stato tremendo rispetto alle vendite anche perché appunto ormai tu l'informazione se sei connesso ripeto semplicemente a twitter te le puoi leggere lì non hai più bisogno di comprarti il giornale la mattina anche perché la mattina su twitter sono tantissimi quelli che fanno rimbalzare le notizie più importanti che trovi sui giornali quindi fondamentalmente capisco cioè sono tutti in crisi è in crisi il corriere che sta licenziando è in crisi il sole 24 ore è in crisi l'anza stessa insomma c'è una morte dell'editoria che purtroppo è un problema reale è reale per noi giornalisti ma è reale perché è proprio cambiato il modo di fare informazione invece come funziona il giornale il giornale arrivi la mattina c'è la riunione di redazione alle 11 Repubblica quest'anno si è inventato per esempio per cambiare su repubblica.it fa vedere le riunioni online questo è stato anche un ulteriore modo per Repubblica di cambiare l'informazione di tentare di far capire di arrivare di più alla gente per fargli comprare il giornale è stata un'operazione che per tanti versi ha funzionato perché tu per la prima volta su Repubblica vedi il direttore che fa la riunione quindi capisci come sta cambiando la giornata perché a luna fanno vedere Zio Mauro che si incontra con i vari capi redattori perché questo io quando ero per esempio ero a Repubblica oltre alla riunione della mattina dove ci si incontra con il direttore si dice la giornata si prospetta in questo modo gli eventi più importanti saranno questi tu vai a seguire quello tu vai a seguire quell'altro il resto si fa in redazione quindi da un certo punto di vista è molto più noioso se non vai in giro è molto più bella l'agenzia perché devi correre ad essere banca e devi essere ovunque e sei tu a descrivere hai l'emozione di fare i flash e dire ora ha detto in questo momento questo Monti o quell'altro e dall'altra parte però c'è anche un fattore di sulle agenzie tu non firmi un pezzo quindi esce una sigla di te sul giornale hai luci ha ritrovato ha scritto questo quindi è anche una cosa diversa per il giornalista e rispetto anche alla visibilità che un giornalista può avere in un giornale rispetto a un'agenzia nello stesso tempo però Repubblica è bello perché ha a che fare con grandissime firme con personaggi che comunque hanno la possibilità di sentire a loro volta grandi politici o grandi situazioni perché comunque l'uscita su un giornale è molto importante poi per il politico devono fare le mega interviste così come hanno più visibilità che naturalmente in un'agenzia quindi il giornale fondamentalmente regge ancora perché la visibilità che il cartaceo ti dà è diversa da quella che le agenzie nessuno di voi le vede nel senso che non è che ognuno si può fare un abbonamento non avrebbe nemmeno senso quindi per esempio adesso è uscito un flash dell'Ansa con le due frecce invece tre non so se ci stanno bombardando però questa essendo un'informazione importante loro se erano in tre era proprio insomma per esempio il flash del del papa è stato per molto tempo poi insomma sulle pagine come fotografie come quello storico si è dimesso insomma il papa è stato uno vabbè niente poi si si disconnette e quindi questo per capire poi i giornali hanno subito anche un altro cambiamento che è stato quello per adeguarsi al fatto che hanno perso tantissimi diciamo elettori diciamo la svolta fondamentale per loro è stata quella online quindi corriere.it repubblica.it fondamentalmente o la stampa.it sono sbarcati online e lì c'è un'altra redazione che si è proprio creata quindi c'è non solo la redazione del cartaceo che funziona in un determinato modo quella online funziona un po' come le agenzie perché devono aggiornarlo man mano quindi fondamentalmente è molto più veloce il lavoro a repubblica.it era molto più interessante che nel cartaceo dove tu casomai devi scrivere 40 righe quindi una volta finita lì invece la giornata era molto più divertente in un online perché tu devi continuamente aggiornare la pagina a seconda di quello che succede e quindi e soprattutto devi andare alla ricerca di contenuti multimediali che attirino l'attenzione e per esempio Repubblica e Corriere c'è una lotta continua tra i due siti per avere le informazioni più cioè più curiose più più sfiziose tutto quanto dai dai e soprattutto dai video alle foto cioè la gara la gara è soprattutto su questo perché per loro come mi dicono sempre per esempio dei colleghi di Corriere quando io ripropongo dei video o delle foto sono contenti perché dice che portano tantissimi utenti perché un video è ricliccato ricliccato così come le foto e sono molto curiose per loro insomma e sono tutte persone che in più li seguono come è diverso invece il lavoro di una radio per esempio è anche lì la radio è molto bella molto dinamica molto curiosa però anche la radio per esempio la difficoltà che c'è principale dove devi essere molto bravo è nella sintesi cioè tu hai quando io sono passata dal giornale alla radio quindi tu passi dallo scrivere 50 righe a sintetizzare 50 righe in un minuto e quindi dici no è impossibile come faccio in un minuto a raccontare tutta una conferenza stampa che ho visto quello che ha detto il presidente unito alle voci e lì devi avere un dono di sintesi estremo quindi fai un altro tipo di lavoro e il giornalismo cambia ancora una volta quindi passi dalle agenzie dove più scrivi più particolari dai e più bello il pezzo perché viene ripreso quindi poi la soddisfazione del giornalista di agenzia per esempio è quella di ritrovarsi il giorno dopo sul Corriere o sul giornale perché significa che i giornali hanno capito che la tua notizia era veramente figa e l'hanno riportata sui giornali quindi la Torre Eiffel che si illumina di blu era su Corriere.it sul giornale eccetera quindi che figo l'ho data io quella notizia e quindi era una cosa molto molto bella sulla radio invece è stato un lavoro veramente complicato per cui è un mezzo di comunicazione bellissimo e che secondo me non tramonterà mai a differenza degli altri non so se voi siete appassionati qual è il mezzo di comunicazione che vi piace di più però se ascoltate la radio un giornale radio a parte che ormai andiamo tutti di fretta che senti ogni ora sai che RDS fa il punto della situazione tu hai al massimo due minuti della tua vita per sapere che cosa succede nel mondo quindi hai risolto la pratica così sono informatissimo in due minuti altro che telegiornale e quindi quello è un grandissimo tuttora per esempio una radio che è stupenda secondo me quella che è Radio 24 che oltre ad avere programmi molto belli fa anche un'informazione degli approfondimenti che sono qualitativamente come il GR1 anche il GR2 però riescono e per me sono bravissimi sono veramente dei maghi della comunicazione a sintetizzare mettendo non solo te che racconti quindi oggi all'Aquila ricorre il quarto anniversario dal sisma sentiamo le voci quindi ci devi inserire tre voci di gente che ancora non ha la casa mi immagino gente che è incazzata il sindaco che ti dice sono quattro anni lo deve impacchettare tutto in quel minuto e quindi devi dire ok quando è finito cioè ti senti non lo so il re del mondo perché sei riuscita a mettere quattro voci insieme e a raccontare completamente una giornata e quindi anche lì è divertentissimo perché praticamente tu come il giornalismo di agenzia devi seguire le varie vicende quindi fisicamente essere sui posti perché poi per un giornalista essere nella notizia è la cosa più diretta e più figa e quindi per esempio con la radio fondamentale è che tu prenda delle ottime voci cioè mentre per un giornalista di agenzia o per un giornalista del cartaceo è fondamentale ascoltare ascolti prendi appunti poi detti il tuo pezzo per un giornalista della radio se tu non hai preso la voce di quello che ha parlato cioè considera che hai fallito tutta la tua conferenza stampa cioè te ne puoi andare a casa distrutto affranto e quindi praticamente è la cosa divertente che le prime volte che che ero arrivata io sono sono stata RDS dove fanno pochissima informazione fondamentalmente perché fanno molta musica fanno fanno altro però per esempio anche lì seguivo il politico e quindi cioè tu arrivi e dici vabbè ti dicono devi fare l'assalto al politico e tu dici l'assalto cioè ma che è l'assalto quindi all'inizio c'eri completamente imbranata perché con sto microfono praticamente ho capito l'importanza che era di arrivare praticamente sotto il mento della persona che dove intervistare e prendere il meglio della voce perché non puoi prendere né il fruscio né quel cioè deve essere pura perfetta se no non te la non te la inseriscono minimamente perché molte volte nella conferenza stampa voi vedete i microfoni qui e si te li fanno inserire molte volte no quindi a margine devi beccare il il politico di turno insomma proprio braccarlo fisicamente quindi c'è una lotta tra i giornalisti della radio e i giornalisti delle tv che assalgono quello che voi vedete sempre in televisione assalgono praticamente il il personaggio e quindi con botte anche fisiche ecladanti perché c'è tutti di stricare in mezzo alle telecamere e riuscire ad arrivare sotto il mento del personaggio quindi è molto divertente però anche lì quando ti fa una dichiarazione cioè divertente cioè ero con la spalla mezza rotta una volta cioè veramente poi ho capito che dovevo infilarmi giù sotto per sotto per arrivare proprio sotto al al politico però sono sono cascata per esempio molte volte con grandi risate di tutti perché tu corri come una pazza vai verso perché l'importante è arrivare prima di tutti gli altri no? quindi tu cioè poi nessuno ti insegna il mestiere quindi ti danno il microfono diciamo devi raggiungere che ne so io mi ricordo che avevo cominciato direttamente con il simbolo dell'ulivo pensate cioè e quindi dicevo vabbè ma fatevi seguire una cosa più banale no? cioè no proprio cioè un giorno importante per no 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 devi seguire quello non ti preoccupare basta che prendi Rutelli sto benedetto Rutelli non lo scorderò mai perché io sono arrivata lì non sapevo che fare sto con questo microfono sto pallone rosso di RDS gigante arrivo lì boom cioè do una botta a lui e lui mi ha guardato con calma non ti preoccupare ti dico tutto quello che ti devo dire però insomma basta che non mi vedi io no non ti preoccupare va bene allora all'onore della prima notizia io no la prima domanda ho detto no no ma ci sono gli altri io sto solo così e quindi è stata abbastanza divertente però anche lì prendi una dichiarazione e quello ti parla due minuti devi tagliarla e quindi devi beccare esattamente la frase giusta incastrata nel tuo discorso quindi è veramente un'opera poi di montaggio difficilissima e tu viaggi sul filo dei secondi per cui quando hai la possibilità di dire alla persona o all'intervistato per favore me lo dice in 30 secondi mi dica per me questo fa schifo questo è esattamente la cosa che l'Italia si aspetta cerchi anche un po' di indirizzarli perché se no il tuo lavoro è triplo perché arrivi noi ormai per esempio conoscevamo già i politici logorroici quindi stavamo dicendo oggi dobbiamo beccare Gasparri madonna mia e quindi sai esattamente che lui si mette e dice fiumi di dichiarazioni quindi tu hai il triplo del lavoro perché poi vai a casa in redazione devi montarlo perché che ne so io più o meno appunto avevamo questi tempi che erano ogni ora però Radio 24 oppure GR1 cioè fanno dei collegamenti continui quindi quei poveracci dovevano praticamente montare il tutto in brevissimo tempo e quindi questo è stato anche è un lavoro totalmente diverso però è anche molto anche lì molto molto divertente poi c'è la tv invece che più o meno è simile però hai il gioco delle immagini mentre per la radio la voce è tutto quindi se tu non hai beccato la voce sei fregato la cosa fondamentale della televisione è di unire il diciamo all'intervista il ruolo del del cameraman che deve essere deve fare delle belle immagini deve beccare qualcosa che gli altri non hanno beccato per esempio come ieri c'era i servizi erano invasi da grillo e dal dal suo agriturismo allora c'era non so mi sembra sky che era riuscito a fare delle foto all'interno a mettere delle immagini di di loro quindi insomma lì c'è un altro lavoro che è importantissimo è quello delle immagini e anche lì comunque si viaggia su tempi ristrettissimi quindi hai non so rispetto vabbè rispetto alla radio un po' di meno perché c'è il TG dell'una delle 13.30 e poi quello serale però insomma anche lì è fondamentale il dono della sintesi perché i TG durano mezz'ora e mezz'ora danno una marea di informazioni divisi per vari ambiti e questi diciamo sono i mezzi cioè quello che oggi abbiamo e che è diventato il giornalismo però dai classici mezzi di comunicazione che sono questi il giornalista oggi il giornalista siamo tutti nel senso che grazie proprio ai social network ed è questo quello che un po' in questo primo spazio questa prima cosa volevo dirvi è vero noi siamo invasi e campiamo di Corriere.it di Repubblica di TG eccetera ma oggi siamo tutti protagonisti e possiamo essere protagonisti delle notizie grazie proprio a un a un tweet grazie a un post su Facebook possiamo dare delle informazioni che altri giornalisti ormai non vanno e i giornalisti veri sono preoccupati da questo perché ora sta andando tantissimo diciamo oltre ai soliti canali su Twitter è avanzata una marea di blog di blogger di altri canali informativi che sono più seguiti di Corriere di Repubblica quindi è una preoccupazione di cui io sono contenta perché fondamentalmente un po' potrebbe far arrivare alla genuinità della notizia visto che quello che vi dicevo l'altra volta viene tutto estremamente modificato dai giornalisti per cui forse per questo mi piace sempre dire che l'agenzia è veramente la notizia perché dopo rispetto a quello che un politico dice o quello che veramente succede viene estremamente tutto modificato cioè io vi dicevo della difficoltà che c'era stata in una campagna elettorale di far emergere determinati contenuti e voi vi ricordavate solo delle scene vi ricordavate degli episodi eclatanti e casomai un'agenda seria i contenuti seri non sono mai arrivati perché se Corriere decide di avere come prima notizia questa e casomai stanno bombardando da un'altra parte però tu leggi solo questo hai quella come informazione non puoi avere altro e soprattutto non hai avuto la fortuna di essere un giornalista dell'ANSA che stava lì quando succedeva una cosa e diceva no ma io ho visto ho sentito dire quella cosa perché anche se tu la lanci poi i meccanismi politici sono più sono più più forti e quindi in questo senso io sono contenta perché grazie ai social e grazie alla rete tu utente tu puoi informarti in maniera diversa e molto più sana perché quello che io ho visto dall'interno è proprio un'informazione completamente travisata rispetto all'importanza che per il Corriere ha a parlare delle imprese e per Repubblica ha a parlare della sinistra piuttosto che della destra oppure c'è delle scelte che comunque redazionalmente si fanno oppure come cambia come è diverso per esempio Repubblica nella descrizione degli scenari politici e come è diverso leggere del Corriere o come è diverso leggere avvenire nelle pagine del politico o la stampa cioè è completamente tutto totalmente deciso dai capi redattori o dall'editore che ti finanzia perché purtroppo chi è che mette fuoco che diciamo dà completamente come dire gli alimenti a un giornale e decide anche la linea editoriale per cui tante volte è bruttissimo che un giornalista arriva e dice io però vorrei vorrei scrivere su questo e fare un titolo su questo e ti dicono no questo non è importante per noi per noi oggi è importante parlare di quest'altro e tu dici ma però io l'ho visto è successo ma perché non lo dobbiamo dire per cui per esempio i momenti in cui mi sono sentita più utile perché cioè se vogliamo parlare anche di un'eticità di questo di questo lavoro è stato per esempio nel messaggero quando lavoravo in cronaca e quindi era molto più diretto il lavoro che c'era lì perché era diverso dalla politica diverso da qualsiasi altro settore e tu ti dovevi occupare dei problemi della gente cioè concretamente il messaggero è forte molto forte a Roma su Roma nel Lazio per esempio e quindi per loro era fondamentale che tu in qualche modo lavorassi su le cose che succedevano realmente che ne so io lavoravo di estate quindi mi dicevano vai nella metro alle 5 di mattina bisogna bisogna dire al sindaco che alle 5 di mattina già c'è un tasso di umidità che si crepa fino a luna di notte devi stare lì col termometro a dire e tu ti facevi un mazzo così però alla fine era casomai l'articolo più letto e più importante perché si è capito che dovevano forse aprire un po' d'aria condizionata o in qualche modo dovevi sentirti più utile rispetto al diciamo al no non dico però rispetto a chi ti legge perché se no fondamentalmente tutta questa serie di informazioni di cui siamo bombardati perfettamente è totalmente inutile quindi quello che vi dico che rispetto anche a quello che leggete ai mezzi di comunicazione se siete più fan del Corriere o di Repubblica per dei motivi o della stampa o di altre cose avete un'opportunità nuova che può venirvi da internet che può venirvi da Twitter di informarmi in maniera diversa anche da chi quelle notizie le subisce in in primo tempo io ritorno su Twitter proprio perché penso che abbia modificato totalmente il quadro dell'informazione italiana e lo è stato vi ho fatto degli esempi eclatanti con Bill Laden e con Obama ma anche per non so il terremoto in Emilia per esempio era più facile che tramite Twitter si sapesse che c'era stata una scossa che in una scuola si stava meglio e in un'altra peggio che grazie al non so c'era avevano fatto degli appelli proprio per tenere aperte le reti wifi perché erano saltati i collegamenti telefonici ed era più facile anche per le persone piuttosto collegarsi su Twitter e dare informazioni ai familiari o alle persone di conseguenza i giornalisti che non potevano essere lì ad ogni scossa e quindi di conseguenza avere le informazioni di questo io vi ho fatto un po' il quadro di quelle che sono i maggiori diciamo mezzi di comunicazione e come funzionano poi prima dello stacco con l'altro vi lascio sempre il tempo anche di chiedermi se avete curiosità rispetto a come funziona proprio un lavoro delle redazioni o a domande di qualsiasi tipo rispetto all'informazione di oggi in Italia o se avete un mezzo di comunicazione che vi piace di più che seguite di più e volete sapere come funziona nello specifico vabbè voi siete liberi senza problemi e allora anche per questo mi piace molto diciamo più il lavoro di agenzia perché è proprio più puro rispetto a un giornale come repubblica che soprattutto dopo averci lavorato non lo leggo più per dirti cioè non riesci proprio negli scenari politici è molto romanzato molto poco concreto invece il lavoro di agenzia tu devi essere il meno obiettivo cioè il più obiettivo possibile e il meno fazioso quindi tu sei lì che devi raccontare quello che sta succedendo quindi se siamo qui il flash sarebbe parte il laboratorio sono presenti tot cioè è proprio il lavoro di descrizione per me l'agenzia è il giornalismo puro perché tu devi descrivere quello che succede eccetera i giornali cercano siccome sono già superati quando escono il giorno dopo perché tu il giorno dopo cioè se sei stato connesso fino a luna di notte tu già sei esattamente che cosa sarà scritto domani sul giornale allora ogni agenzia c'ha un editore però magari c'è un retroscena rispetto a quella a quella notizia assolutamente ma quelli retroscena vengono raccontati poi in man mano però tu sul momento devi dire in piazza Duomo Berlusconi si è beccato la la statua in fronte era una statua con il Duomo di Milano tu devi ideare questo poi il retro si questo è il flash poi il retroscena lo racconti man mano che tu hai le informazioni e che viene a sapere che cosa succede perché poi cioè è figo per il giornalista no vabbè perché mica sono io qua si praticamente parlo con in realtà parlo col muro arancione e quindi e quindi praticamente è molto poi sta il giornalista a cercarsi il retroscena sentire i vari politici e montare anche un po' il caso perché poi sulle agenzie che si montano anche i danni maggiori delle informazioni nel senso che poi ti chiama Gaspari che vuole fare la dichiarazione ti chiama Bersani che vuole fare una dichiarazione e già si è impostato il pezzo perché quello dice ah no questo perché la violenza si deve assolutamente non alimentare piuttosto dire ok può arrivare la sinistra che ti dice un'altra cosa eh però se l'ha nominato un motivo ci sarà la gente è inacidita contro di lui quello no famolo santo subito e quindi però tu segui e vieni diciamo che fedelmente dovresti rispondere a quello che succede nella realtà che segui ma quello cioè il giornalista si da questo punto di vista si perché se tu ehm per esempio era uscita un'agenzia proprio questa cosa che è successa l'altro ieri su un episodio di crimi che non ricordo esattamente che cosa era successo però un eh un giornalista di agenzia aveva detto di aver sentito di aver origliato eh che lui aveva dichiarato non mi ricordo una delle sue tante cazzate che sta dichiarando sti giorni sbagliando e e non era cioè poi lui crimi è dovuto smentire perché non era vero eccetera questo voleva fare poi sentiti altri colleghi che erano lì con lui voleva fare lo scoop lo scoop non era riuscito perché in realtà aveva raccontato una una cretinata ma questo sta poi ehm cioè all'editore anche o al direttore di di un giornale di un'agenzia eccetera oppure per esempio noi era successo con durante la campagna elettorale per esempio che l'ANSA raccontò ehm il retroscena di una riunione con Monti proprio perché probabilmente qualcuno all'interno della riunione aveva parlato qualcuno dei senatori o del del gruppo stesso non aveva raccontato mettendo proprio in bocca a Monti delle parole allora no no cioè di no se io non è Monti stesso che ti ha parlato tu non puoi raccontare allora poi chiami l'ANSA il lavoro di addetto stampa o del portavoce eccetera è quello di te oh ma che avete scritto io cioè lui non ha mai parlato con te no però però lo sapevamo e no non puoi mettere il virgolettato però del presidente del consiglio che dice io spascio tutto ma che l'ha mai detto no quindi da questo punto di vista poi è naturale che l'agenzia ci marcia perché il ruolo di un giornalista di agenzia è quello di fare il titolo che il giorno dopo deve ritrovarsi sul giornale quindi se tu fai i perché i grandi giornalisti si dice che vengono dal mondo dell'agenzia e più grandi giornalisti hanno fatto tutti l'agenzia stampa perché fondamentalmente lì impari il mestiere perché ti buttano da una parte e tu devi descrivere una cosa e devi riuscire a raccontarla a trovarti la notizia devi essere veramente giornalista a 360 gradi perché devi proprio anche andartela a trovare non è solo il giorno che succede quello e devi andare lì no? devi essere anche capace di dire come è stata la giornalista la giornalista la giornalista la giornalista della giornalista della giornalista che quella mattina aveva sentore che stava succedendo qualcosa però tu che ti vai a seguire una messa in latino di Ratzinger con altri vescovi cioè oltre a avere un grandissimo intuito un grandissimo diciamo eh cioè però hai capito in latino che quello si stava dimettendo e fatto cioè la notizia che è stata più rituitata che ha fatto il giro del mondo insomma però lì è stata di una bravura estrema lei cioè per cui è una cosa in più rispetto a eh a un giornalista del del Corriere o di Repubblica per esempio eh chi sta avanti da questo punto di vista che è più a passo che i tempi è SkyTG24 perché mentre l'agenzia appunto cioè tu se hai il come dire diciamo tutta l'abbonamento allora tu anche un utente qualsiasi lo può vedere però SkyTG24 è quello che invece passa in maniera diretta come se seguissi le agenzie le notizie e man mano quello che succede e fa un lavoro concreto anche con i video e con i cameraman che sono direttamente nei posti principali dove succedono le cose quindi loro è stata proprio anche lì una rivoluzione rispetto al Rai News 24 eccetera perché hanno capito che bisognava fare un altro tipo di informazione cioè passare il lavoro dell'agenzia in video perché è quello che attira di più e quindi in tutte le redazioni ma da un ufficio stampa come il mio alle redazioni dei giornali c'è sempre SkyTG24 sottofondo perché tu per non cecarti dietro al computer vedi lì cacchio sotto pancia di Sky ultimora e vedi che ne so Napolitano ha nominato dieci saggi e quindi quello è stato diciamo il cambiamento rispetto alle agenzie però poi appunto su quanto un giornalista è obiettivo e quanto no quello è proprio una cosa che vivo totalmente ogni giorno sia da giornalista che dall'altra parte perché appunto il ruolo poi dell'ufficio stampa è tu sei dall'altra parte mentre il giornalista ti da scrive le notizie l'ufficio stampa e te le vende le notizie abbiamo capito l'altra volta cioè io ti vendo un prodotto ti vendo un personaggio ti vendo qualsiasi cosa quindi fai fatica perché trovi un muro nelle redazioni perché no nelle redazioni oggi abbiamo deciso che di qui a un mese dobbiamo parlare della viaria e poi magicamente sparisce tu dici ma com'è è finito sto problema no vabbè però è crollato il prezzo di quello sì abbiamo ottenuto un risultato cioè è tutto magistralmente costruito come come lo è costruito a pennello anche sui personaggi politici e quindi una grandissima mano l'hanno data per esempio è vero alla bravura che c'è del personaggio come un personaggio come Renzi però ha un grandissimo sostegno da parte dei media per tanti aspetti vedendo come funzionano i mezzi di comunicazione tu dall'altra parte dici ammazza però quanto lo state aiutando cioè nel senso che se poi la macchina del fango si mette in moto allora a un certo punto l'avete visto per esempio hanno nominato Grasso che lì vuoi dire un procuratore antimafia no ci sono stati sono stati capaci è partita è partita subito l'offensiva su ecco la Boldrini adesso sì 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 col Papa assolutamente sono stati tutti esempi abbastanza eclatanti per esempio in cui si è proprio visto come non lo so è succedere anche con Papa Francesco probabilmente ah io pensavo con Ratzinger sul caso Ratzinger si è creato sì 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 assolutamente sì 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 che poi era tutto completamente oppure adesso devono criticare perché è troppo alla mano cioè dobbiamo trovargli un difetto cioè io per esempio uno dei primi di tweet quando ero lì in piazza San Pietro è stata vi prego fate aspettiamo dieci minuti per mettere in moto il meccanismo della macchina del fango fateci ricordare almeno dieci minuti sto Papa che esce e ti dice buonasera con una freschezza che tu dici mamma mia che bello perché sì sì è una scelta lì è più una scelta redazionale che si decide però quanto danno può fare un titolo rispetto a un altro o il danno che fa sull'opinione pubblica una cosa l'altra volta abbiamo visto proprio nel meccanismo della campagna elettorale volevo farvi capire proprio la strumentalizzazione generale che si hanno sulle informazioni come i grandi anche fatti di cronaca cioè non è solo la rabbia di non essere riusciti in campagna elettorale a far passare i messaggi importanti che uno che deve andare a votare per il bene del paese deve sapere e quindi tu ti incazzi che per un mese sui giornali è uscito il cane di Monti e non è uscito l'agenda di Monti o è uscito il litigio tra Bersani e Berlusconi e non è uscito il contenuto oppure è passato solamente ti tolgo l'Imu e non perché come fa a togliere l'Imu no cioè quindi siamo completamente succubi di questa valanga mediatica che ci travolge ogni giorno per cui è completamente difficile riuscire sia da chi è dentro a lavorare in maniera etica e in maniera anche da dire ma questo veramente è importante cioè da raccontare questa è un'informazione che tutti devono avere deve essere il più pulita possibile perché dobbiamo fare questo titolo che non ci azzecca niente o che distrugge un personaggio anziché aiutarlo ed è questo è veramente anche denigrante perché perché tu dici io in realtà non ho visto questo perché lo dobbiamo strumentalizzare così e purtroppo il caso dell'unità con il titolo sì sì con Renzi e stasera naturalmente sarete tutti a guardare Renzi da amici state lì che non vedete loro e infatti questa è per esempio poi era una cosa di cui volevo parlare nella seconda parte quando si parla della costruzione di un personaggio mediatico di quanto è difficile poi nelle scelte diciamo comunicative da fare dire insomma deve andare da amici è una cosa che può tornare utile riunioni su riunioni a decidere se è una cosa che è immediatamente il look sì lui da Fonsi passi da eh lì hanno costruito per esempio tanto alla fine anticipavo questa cosa per esempio su Renzi è stato fatto un lavoro secondo me meraviglioso il 70% è dovuto a lui secondo me proprio come personaggio perché è facile gestire un personaggio che oltre a un superio sviluppato però ha anche una capacità dialettica ed è diretto e spacca e arriva e insomma si mangia la telecamera come dico io però anche nel look Obamiano la camicia girata cioè è tutta una scelta cioè di tutto curata per tutto da come si deve sedere non ti siedi sta in piedi il microfono così cioè poi faccio capire gli studi che ci sono che partono da quando D'Alema passò cioè dalle giacche verdi orribili al blu perché era entrato Berlusconi in politica e quindi Berlusconi ha portato un altro modo di fare completamente televisione e un altro modo di fare anche il personaggio quindi cioè noi gli possiamo dire tutto quello che vuole ma lui in comunicazione ha dato cioè nelle ultime lezioni come abbiamo visto l'altra volta cioè quello che vi ho fatto capire lui ha stravinto in tutta la linea perché cioè ha deciso di non far passare nessun messaggio di valore di comunicazione degli altri cioè non è passato niente è passato lui con l'Imu e lui con comunque assolutamente è stato aiutato anche dai suoi giornali insomma abbastanza per cui quello che che la differenza a parte la passione per ogni mezzo di comunicazione che è diverso quindi come vi ho fatto vedere è veramente complicato poi trovare sia un editore che ti faccia scrivere così per quello che tu hai visto perché poi quello è il problema quando torni in redazione e dici beh io ho fatto questo qual è la notizia però questa tirerebbe di più tu dici tirerebbe sì però non è proprio esattamente quello che ho visto io e quindi anche dai fatti di cronaca importanti cioè i grandi delitti o le le grandi inchieste anche per esempio in questi giorni che si ritorna a parlare di L'Aquila si è fatta anche lì una speculazione terribile su tutta la vicenda trovare il giornalista che veramente ha seguito si è studiato le carte che cioè è veramente difficile perché ormai la redazione non ti lascia nemmeno più il tempo di approfondire quindi è anche morto un certo giornalismo di inchiesta che ci ritroviamo a questo punto fatto solo in maniera ironica dalle Iene e non troppo ironica perché loro lo fanno anche bene però perché quello che dicono questo non passa cioè la solita frase che ti senti dire nella redazione questo non passa questo non va questo non viene letto questo non è notizia e sì dai che palle e sì ho capito non è che mi posso inventare ogni giorno lo scoop perché è quello più importante e quello passa di più sì che però anche è tutta una certa stampa così come lo è panorama totalmente sì fondamentalmente è difficile poi da quell'inchiesta trovare il giornalista che veramente è stato obiettivo rispetto ai fatti e che quindi ha voluto studiarsi una causa non perché deve infangare il personaggio politico di turno ma perché l'ha voluto raccontare a quei poveracci che poi sono morti in un episodio eclatante oppure fondamentalmente perché credono nel valore della giustizia per cui studiarsi la causa di Berlusconi è più importante che infangare lui ma proprio per far capire come funziona il sistema della giustizia in Italia cioè è difficilissimo trovare tutto ciò e dalle mie esperienze è stato molto complicato cioè vedere e poter sperimentare anche un caporedattore un editore che ti dice se si ha ragione non me ne frega che domani non vendiamo niente però abbiamo raccontato un bel giornale e questo è veramente complicato sì allora praticamente ormai sono tutti autonomi per cui tu direttamente dal dal telefonino dal tuo ipad eccetera poi per essere siccome l'obiettivo principale di un'agenzia è che deve arrivare prima dell'altra quindi fondamentalmente non ci può essere il controllo del caporedattore eccetera quindi tu sei responsabile di quello che stai vedendo e di solito i giornalisti di agenzia fanno così per non prendere anche pesci diciamo o sbagliare tu li vedi di solito se vai in una conferenza stampa dove se parliamo per esempio di una conferenza stampa così come ve l'ho raccontata l'altra volta quindi che io sono l'ufficio stampa la mia preoccupazione principale quando faccio una conferenza stampa con il ministro non me ne frega niente se non ci sono i quotidiani però se mancano le agenzie significa che tu non hai visibilità non esisti non vai nel mondo e quindi per me cioè se ci sono tutte le cinque agenzie principali io ho già vinto cioè la mia conferenza stampa è già riuscita perché loro sicuramente faranno il pezzo poi i quotidiani dicono vabbè io non posso passare però tanto ci sono i colleghi delle agenzie e quindi tu hai risolto quindi fondamentalmente cioè anche quando in funzione di quello che ci siamo detti l'altra volta nella conferenza stampa fondamentalmente tu devi prima di tutto avere presenti le agenzie di stampa e loro di solito appunto insieme tranne se uno non ha uno scoop rispetto a un altro che ha beccato per esempio il ministro prima dell'altro e gli dice guarda che domani il governo cade quindi lui fa il flash da solo e manda di solito c'è anche una certa coerenza per cui tutti decidono che seguono per esempio lo speech del ministro e decidono che ci sono due o tre notizie principali da mettere in evidenza e quindi prima lo fanno finire di parlare e decidono i titoli da fare così che tutti sono più o meno allineati e non c'è un'informazione che vaga o diversa rispetto all'altra però di solito se tu assolutamente che tranne se non hai appunto una notizia come dicevo qua Profumo mi ha detto che domenica del governo allora tu chiami in redazione e chiami il caporedattore politico e dici a me mi hanno detto questa cosa però se lo dice il ministro e te lo fa virgolettare tu lo dai perché è un'informazione quindi ti confronti un attimo ma poi si viaggia tutto nei secondi e quindi fondamentalmente tu metti in rete e va e parte con flash doppio flash a seconda della notizia pensa te se la giornalista dell'ANSA quando ha sentito dire che il Papa si diventesse cioè lì per dirti avendolo sentito poi il direttore dell'ANSA perché come vi raccontavo ero neanche a fare apposta ero con con Monti quindi cioè era un casino per me cioè lo dovevo sapere per certo che era però loro hanno vissuto un momento di panico potente perché lei chiama in redazione e dice oh io ho sentito questo era in latino cioè naturalmente Padre Lombardi non rispondeva cioè è stato un momento di panico generale vi assicuro che però qua nell'aria c'era questa cosa lì il direttore mi ha raccontato io mi sono cioè stavo morendo perché lì poi cadono le teste sulle notizie sbagliate come possono essere queste però appunto si sono fidati della giornalista hanno passato mezz'ora di panico totale fino a che Padre Lombardi non ha risposto e ha detto avete ragione è così non vi preoccupate per cui io per esempio nella telefonata sono arrivata esattamente quando loro avevano avuto conferma quindi mi hanno detto sì è certo il presidente del consiglio deve dichiarare per forza non può stare zitto e quindi l'ha il panico di dover dichiarare una cosa su un fatto mai esistito cioè mai successo prima prima di allora però sì il bello è l'adrenalina delle agenzie è arrivare prima prima di tutti così che che poi l'ansa lo dice e tu esplodi come prima notizia su Corriere su Repubblica e tutto quanto altre curiosità rispetto a questa sessione dei mezzi di comunicazione non lo so l'altra è su è una cosa che mi avevano richiesto anche alcuni di voi l'altra volta è come si fa a gestire un personaggio pubblico cioè la figura del portavoce la domanda è una cosa che mi ha fatto in relazione a una domanda che non è un termine importante nel senso che si vive una realtà importante Grazie. 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 Dire ai pugliesi che le scelte del quinto superiore vadano piuttosto che nella direzione dei tecnici professionali che dei licei significa che c'è anche un pericoloso gap di non informazione per cui c'è ancora quella cosa che il liceo ti dà di più di un tecnico e quindi la bravura poi di un giornalista locale di fare un'analisi sulla Puglia per dire ammazza però qui forse è il caso di fare un'analisi. Anche orientamento nelle scuole, orientamento per dire che risorse ha la Puglia, quanto è importante puntare sugli istituti tecnici piuttosto che per dirti quindi il rimbalzo a livello regionale è fondamentale. Secondo me come l'organizzerei per dirti? Allora è vero che è molto baricentrica però io assolutamente credo che se c'è un'associazione che funziona tantissimo su Foggia o sulla Capitanata, cioè come la vostra, se si mette in piedi un ufficio stampa che decide che non c'è un solo evento, ci possono essere pure solo due eventi all'anno fondamentali però tu ti curi i contatti con i giornalisti che a livello per esempio con Corriere del Mezzogiorno che c'ha l'inviato a Foggia, e tu sei capace di costruire un comunicato stampa che dica solo qui in Capitanata si fa un laboratorio di questo tipo che unisce 30 persone ma 30 persone che ho nel profilo così ti fai una cartella stampa che è valida e devi rompere le scato perché quello che ho visto tantissimo quando mi sono dovuto occupare della Puglia è che manca proprio questo meccanismo forse non lo so se è una mancanza di esperienza o di contatto con chi si occupa di queste realtà ci sono tantissimi giornalisti che si occupano della Capitanata, bisogna solo trovarli, telefonarli e creare un rapporto che sia, cioè è la base dell'informazione, cioè è proprio una cosa che nemmeno l'ospedale come ufficio stampa fa ed è per me sconvolgente perché è una realtà grandissima come quella che abbiamo, che in Italia, altro che sa Raffaele, che fa tantissimo, deve avere, ha una difficoltà incredibile ad uscire non ha una rete di informatori che sono i principali strumenti per te per uscire ed è quella la prima cosa che farei cioè ci sono tantissimi, non so, una serie di network, penso locali, importanti in Capitanata, sui siti, cioè conoscere le varie redazioni il redattore che è Corriere del Mezzogiorno di Foggia, io l'ho conosciuto perché gli volevo dare questa cosa delle iscrizioni, esiste, c'è perché non invitarlo, perché non ti dovrebbe fare un trafiletto su San Giovanni Rotondo o San Marco che si mettono insieme e fanno una cosa figa per i giovani, perché, cioè hanno tutti una necessità incredibile, la capacità dell'ufficio stampa o della piccola associazione che fa anche due eventi è impacchettare, infiocchettare l'informazione, cioè è una cosa che non sembra, cioè puntare come vi dicevo l'altra volta alla novità estrema, vedevamo come avevate scritto voi il comunicato stampa che non aveva un certo appeal però se tu crei un tipo di informazione diverso, finalmente per i giovani, già che metti finalmente, finalmente arriva per i giovani San Giovanni è il primo laboratorio di comunicazione e giornalismo, non se l'ha mai fatto prima, finalmente un'opportunità per chi il sabato pomeriggio non sa che cavolo fare, di capire come funziona l'informazione, basilare cioè tu crei già una cosa, già la prima volta, diventa una notizia, l'agenzia ANSA ha su Bari la redazione, ma la redazione ha l'inviato a Foggia, l'inviato a Bari, l'inviato a Taranto, l'inviato a Brindisi, a Lecce, cioè è diviso Tg3 regionale, c'è quello che sta su, ora quanto poi decidono redazionalmente di dedicare un'informazione o di mandarti la troupe a livello locale, eccetera, quella è un'altra cosa, però a livello locale? Beh, questo c'è, a livello locale c'è a livello nazionale Assolutamente, ma lì, questo, allora questo succede anche con i grandi politici no, però guarda, è il ruolo fondamentale di come tu riesci a, in qualche modo, a rendere unica la tua notizia, l'altra volta abbiamo fatto l'esempio, per fare un esempio di comunicato stampa o di cartella stampa, su una, praticamente un ragazzo che ha messo insieme una vendita online di prodotti pugliesi, mi dicevano, ho detto, proviamo a organizzare, aveva una cartolina e basta, dico, pensa della potenzialità di comunicazione che non viene da una cartolina perché la cartolina ormai chi è che la fa più, cioè basta, bisogna pensare oltre, quindi da lì a dire, cioè fai la cartella stampa di questo, è il primo che sul Gargano vende prodotti a livello online, tu già hai sparato una cosa, il primo che a livello, che prodotti vende, questo, questo e quest'altro, fai la conferenza stampa, la fai nell'agritura, turismo, inviti giornalisti, rifemagnà, fai vedere come hai reso online, quindi di come ti sei inventato una cosa che vada verso il futuro piuttosto che vada nel supermercato, cioè come tu con l'online puoi arrivare a vendere prodotti pugliesi a Mosca, cioè è fighissimo, però là lo devi impacchettare tu, i prodotti pugliesi arrivano in tutto il mondo, cioè è una cazzata, però tu se pensi che li vendi online puoi arrivare in tutto il mondo e tu ti costruisci un'informazione, devi avere una fantasia incredibile, però riesci a dire, che ne so, se il primo nel Gargano che le fa, magari non è proprio il primo, però il primo che ha avuto un'idea di questo tipo, per forza di cose, se non è l'agenzia Lanza che è la più figa, però inizia a uscire sui giornali locali o su, come si chiama, il portale di San Giovanni Rotondonetto oppure un altro, l'informazione inizia a uscire e io sentendo anche tanti colleghi che lavorano a livello locale nei giornali, per esempio un mio amico carissimo che lavora al quotidiano di Lecce, che oltre a fare tanta cronaca, eccetera, hanno bisogno di tirar fuori, cioè dice a noi ci manca chi ci dà le informazioni o le notizie, ma pensate se arriva un gruppo di giovani che fa una cosa figa, perché non la dovrebbero pompare, cioè però è fondamentale che tu come ufficio stampa ti inventi, ti inventi ecco come, insomma, vi ho fatto un esempio l'altra volta che però ha funzionato, casomai appunto questo ragazzo non ci avrà mai pensato, ha pensato a una cosa antichissima come la cartolina che distribuisci tra le persone che, ok, arriva a una certa persona come informazione, però pensa allo sbarco online o su Facebook che può essere una cosa di questo tipo, cioè ti triplica i contatti, e soprattutto se tu costruisci attorno alla cartolina un'informazione, sono il primo che le fa, i prodotti pugliesi possono arrivare ovunque, la concorrenza è spiedata, però questo è l'olio fatto da mio nonno con le sue mani, schiacciata, cioè insomma, veramente devi essere bravissimo a costruirla, e anche quando, perché per dirti noi abbiamo fatto tantissime conferenze stampa ultimamente, proprio in chiusura di questo mandato del ministro Profumo, lui ha fatto una serie di cose fondamentali per i ricercatori e la ricerca, oh ma non è uscita una riga, una riga sola sui giornali, cioè è di una cosa che tu stai lì che ti sei ciucciato praticamente i decreti, studiato, questo si è fatto un mega lavoro, eppure la ricerca, chiami le relazioni, ma non passa, ma questo non fa titolo, ma che è una palla tremenda, e poi vi lamentate perché i cercatori se ne vanno fuori, cioè, e invece questo ha districato, ha tentato di semplificare i bandi quando tu partecipi a un, appunto per far restare i giovani in Italia, e però non passa, quindi c'è il problema a livello locale, cioè a livello nazionale, cioè se c'è stato una campagna elettorale, figuriamoci, però la tua, la bravura assoluta è la rete dei contatti che tu ti crei, perché se non, su cinque giornalisti che parlano della capitanata, perché ce ne saranno cinque, o non è, cioè, che ne parlano tre del tuo evento, tu hai avuto già un successo, poi il resto lo fai con i social, perché ormai con un tuo tweet puoi arrivare a New York, perché è così, cioè tu sei in rete, cioè io seguo la Casa Bianca, cioè, con una facilità incredibile, quindi non è la potenza dell'informazione, anche quando segui un importante personaggio, appunto poi lo vedremo, perché là c'è poi il discorso politico, cioè c'è dall'associazione piccola in cui lavori, dove io ho lavorato, per esempio quando ho cominciato, erano tutte realtà del non profit, mi dicevano, no, il non profit non passa, non se ne fa, ma basta con sta gente, cioè, ok, ero stato in Africa a fare il reportage, eh, ma ci sono dei morti? No, se non ci sono dei morti non te lo posso pubblicare il pezzo, e in modo spera pure che mettono una bomba in Nairobi, cioè, non ho capito, e in caso mai tu hai vissuto delle cose bellissime, lì, eh, no, 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 non c'erano i morti, dici, cioè, questo era stato, e quindi, eh, questo, però la bravura totale, e non deve scoraggiarvi, perché, cioè, qui i giornalisti che vogliono parlare della realtà locale ci sono, le tv locali ci sono, e hanno bisogno delle informazioni. Eh, sì, non rende anche professionali il lavoro. È tantissimo un problema, è proprio tantissimissimo, perché è pieno di improvvisatori, ma i primi sono sotto gli occhi vostri, appena accendete le televisioni, cioè, sono i primi proprio, i professionisti, sì, va bene, non è importante, eh, posso rinnovare, anche su, sì, la possiamo fare tutti, tanto l'importante è che c'è, eh, il mensile, casa sollievo della sofferenza, che è una cosa, diciamo, abbastanza, ecco, ed è il primo settore che viene fatto fuori nelle aziende, per esempio, eccetera, per cui, eh, per me i più grandi capi che ho avuto, anche quando ho fatto colloqui fuori dal mondo istituzionale o dai giornali con le aziende, era chi voleva investire nella comunicazione, perché, secondo me, aveva l'intelligenza per capire che il 50% del successo suo era dovuto estremamente a un ufficio stampa, ora che vendi deodoranti o che vendi, eh, notizie politiche, cioè, vendi nel senso che, che trasmetti, questo non cambia, però l'importanza della tua, la fatturazione della tua azienda deriva dal fatto che il resto del mondo lo sappia, cioè, io l'altra volta vi facevo l'esempio, eh, le uova di Pasqua, cioè, se la Cop ti dice, eh, le vende, cioè, l'ufficio stampa della Cop che si inventa, io, se ne compri tre, due, te ne regalo, eh, cioè, quello è un grandissimo, diciamo, lavoro, sia di ufficio stampa che di comunicazione, che dico, vabbè, ma se proprio devo, io sai che faccio, mi vado a comprare la Cop, che poi, che ne so, un metallo dà in beneficenza, uno me lo regala, una, cioè, è tutta una strategia che lì si unisce al marketing, però è assolutamente, purtroppo, nella crisi anche che c'è, è un settore che, che fortemente, diciamo, è in decadenza e purtroppo non tutti hanno l'intelligenza di capire che invece quello che dovrebbe, eh, essere valutato, ma questo non lo capiscono a volte, spesso, nemmeno i, eh, i grandi personaggi politici che casomai dicono, ah, non ho bisogno del portavoce, non ho bisogno, faccio tutto io, faccio, e invece, no, perché poi si fanno degli errori terribili. E quindi, qua abbiamo l'esempio di una grande azienda ospedaliera che potrebbe avere il triplo delle informazioni a livello nazionale, perché poi non ti devi più accontentare quando fai una ricerca che è mondiale, quindi tu esci, con i nostri ricercatori, esci, eh, in America e qui hai un trafiletto sulla gazzetta del mezzogiorno, lì diventa riduttivo e anche frustrante per un ufficio stampa. E devi andare, c'è essere un passaggio che non ti dico che deve essere a BBC, però, insomma, cioè, a livello nazionale, a meno, eh, deve essere diverso. Però sì, c'è molta improvvisazione, cioè, si sottovaluta, più che improvvisazione si sottovaluta. Deve avere l'intelligenza, però, di costruire, cioè, nel senso che, da una parte, puoi, puoi essere il redattore di una notizia, però, nello stesso tempo, non perché ci deve essere improvvisazione, in questo senso. Ma, da una parte, ci deve essere anche l'intelligenza di valutare, eh, nei conti di quello che ti vedi. Assolutamente, perché se poi, eh, sei nella savana e tua moglie viene sbranata e tu, anziché salvare, hai, dice, oh, voglio fare un tweet, cioè, come è successo. Tu dici, vabbè, sei un cretino, cioè, sei veramente un cretino. Poi, quella foto, ok, che è stata due mesi su Corriere.it, però sei un cretino, cioè, perché tua moglie non ha più un braccio, casomai, però, ho capito, cioè, quando tutta la sera ti sei rivenduta la foto di tua moglie sbranata, sei un cretino, cioè, da quel punto di vista, sì. Certo, perché sarà, sarà assolutamente un modo per, per farlo fuori, assolutamente. Allora, se volete, facciamo che ci fermiamo dieci minuti, cinque minuti e riprendiamo con, e riprendiamo con,